Buon weekend, stamattina mi sono così, siccome ho un campagna, un cipuzziere, però vi voglio notare per non dimenticare, perché la migliore ricchezza che è è la salute, perché i soldi un valonente sono una salute, noi possiamo scioccare tutti in culo. Siccome si mangia delle schifezze durante il percorso delle giornate e superano 45 anni, dobbiamo fare una pulizia del corpo, però io la uso quando avevo già 30 anni, questa cosa, questo è aglio. Ogni mattina, a prescindere per lo specchio d'aglio, il taglio diciamo in questi pezzettini, mi metto mocca, devo mettere l'acqua, mi ingoio come un antibiotico, pulizia di vasosanguigni, anticolostero, di pulizia, tutte cose, non fa puzzare dopo l'aglio, no, perché ti ingoio sano, dopo gli acidi si sviluppano e fanno i suoi effetti. Alla fine l'aglio è un antibiotico naturale, la pulizia, tutte cose, io me lo bello e me lo prendo ogni mattina, guarda, ciò che volete fare facete, se volete farlo facete, però facete per controllare se l'aglio non si è talleggio, potete fare, la pressione, colesterone, insomma, tante, avete tanti profitti. Una beccia alla sicurezza.